Per le cosiddette due signe è un sogno che potrebbe diventare realtà, anche se per il momento rimane un'immagine solo sulla carta. È il nuovo Ponte sull'Arno, un'opera attesa da decenni da queste parti, ma proprio adesso che il progetto sembra essersi sbloccato, arrivano sonore e bocciature. In primis quella dell'Ordine degli Architetti, che chiede di rivedere tutto, non per l'opportunità finalmente di liberare da traffico e smog le due sponde del fiume. Ma per l'assenza di un concorso pubblico, quindi la procedura, un concorso che potrebbe innescare, dicono gli architetti, le migliori idee progettuali. Tempo scaduto, risponde dal suo canto il primo cittadino di signe Alberto Cristianini, proprio colui che con l'infrastruttura aveva ripensato alla contrarietà al nuovo aeroporto di Peretola. Dunque non si torna più indietro, almeno secondo le istituzioni. Costo 35 milioni di euro, inizio dei lavori 2022, un ponte strallato lungo 300 metri con un grande iris stilizzato. In effetti quel giglio che il dà in là ai tiranti ha fatto storcere qualche naso di troppo. Basti guardare il popolo del web, che usando l'arma dell'ironia si è letteralmente scatenato, rievocando Sandokan, un riferimento sicuramente meno elegante.